E' stato pubblicato l'avviso per l'adesione all'albo comunale delle associazioni del Comune di Agropoli. Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola per consentire l'individuazione e il riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale favorendone la partecipazione alle attività culturali e sociali. Possono chiedere di essere incluse nell'elenco tutte le associazioni create per fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo, purché siano regolarmente costituite. Queste dovranno avere uno statuto e un atto costitutivo che dimostrino l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e il perseguimento di scopi compatibili con i fini istituzionali dell'ente pubblico. Sarà poi l'area turismo, promozione, eventi, cultura e sport a provvedere alla realizzazione dell'albo, dunque all'iscrizione. Finalmente l'albo delle associazioni è realtà. Si tratta di una proposta a cui lavoravamo da tempo e dopo l'approvazione del regolamento da parte dell'Aggiunta e del Consiglio Comunale abbiamo completato l'iter per l'istituzione con la pubblicazione dell'avviso per l'adesione, afferma il Sindaco Coppola. La formazione dell'albo delle associazioni, aggiunge, è una novità importante finalizzata a favorire sempre di più la partecipazione degli organismi associativi alla vita sociale e culturale della nostra città e rappresenta anche un riconoscimento all'impegno costante delle associazioni nel tenere vivo, attivo e coeso il tessuto sociale del nostro territorio. Sul sito istituzionale del Comune di Agropoli è presente l'avviso con la modulistica per l'adesione all'albo.